bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono il re della lista cancelletto 1 farò la recensione di un film del 1963 lo spettro in una tetra villa scozzese una donna avida e senza scrupoli si è stufata del marito e chiede aiuto all'amante il mio voto a questo film è 7 ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto mi sono piaciute molto le scene del film l'interpretazione nella sceneggiatura e di genere dell'orrore la durata è 1 ore 37 minuti il regista è riccardo fredda la regia è buona bravo regista il paese di produzione è italia l'attrice è barbara still brava attrice nel film anche elio giotta harriet white carlo catchler peter balwin umberto rau carol bennett reginald price leonard elliot saluto anna samobrina cita aliciotola marcolf il trio medusa pia michele tregigliani favij picchiatore etelifeyn 122 bulluni van drago festival guardate questo video lasciate dei commenti lasciate dei like iscrivetevi al canale seguitemi su instagram arrivederci al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto saluto anche peter e tim guardate questo video vi sia piaciuto saluto al canale seguiti su questo video vi sia piaciuto